I principi sono meglio dei metodi, ma il French Contrast Method è uno di quei pochi metodi che riesce a farsi distinguere per qualità, varietà, completezza e rapidità di adattamenti positivi che permette di ottenere nella performance atletica. Ciao, sono Nicolas Rumini, strength coach specializzato nell'aumento della performance sportiva e oggi parliamo del French Contrast Method. L'abilità di un atleta di esprimere alto tasso di forza e di potenza sono due delle caratteristiche più importanti nella performance sportiva. Per sport di ogni genere, dal pugilato al calcio, passando per il basket o qualsiasi altro sport dove conti accelerazione, velocità, salto, il French Contrast Method può essere utilizzato e portare ad ottimi incrementi, in particolare di forza massima, forza esplosiva, velocità, cambio di direzione ed accelerazione. È chiaro, se sei un powerlifter con 250 kg di back squat non sarà il French Contrast Method a portarti a 260, ma se sei uno sportivo che deve minimizzare il lavoro in palestra, pur ottenendo ottimi risultati su più fronti, questo è uno dei metodi migliori. Ma in che cosa consiste? Il French Contrast Method è un derivato del Contrast Training, ovvero il metodo a contrasto, nel quale un esercizio leggero viene fatto dopo un esercizio pesante dallo schema motorio simile. Nel French Contrast Method invece si susseguono quattro esercizi, con poca o nessuna pausa tra di loro, in questo esatto ordine. Esercizio multiarticolare pesante, 80% o più, esercizio pleometrico, salto con zavorra e salto assistito o alleggerito. Facciamo un esempio pratico. Primo esercizio, tre bar per tre ripetizioni all'80%, a seguire box jump per quattro ripetizioni, poi salto verticale con manubri ed infine salto assistito con elastico, che è esattamente quello che puoi vedere in questo video. Questa è una serie, tradizionalmente vengono eseguite dalle due alle quattro serie in totale, con cinque o più minuti di recupero tra un giro completo e l'altro. Per quale motivo funziona così bene questo metodo? Beh, permette all'atleta di allenarsi lungo tutta la force velocity curve, si spostano carichi elevati lentamente, poi si scende via via fino a muovere carichi leggeri, ovvero il nostro peso corporeo alleggerito, velocemente. Nel mezzo ci sono tutti quegli esercizi dal power output maggiore. In questo modo, in un unico sosseguirsi di esercizi stiamo allenando la potenza, che è data da forza per velocità. Alcuni esercizi esprimono alta forza a bassa velocità, altri alta velocità e bassa forza. Ma non è questo l'unico motivo per il quale tale metodo funziona così bene. Si avvale anche infatti del principio del post activation potentiation, che in breve significa che un esercizio leggero, fatto successivamente ad uno pesante, trarrà vantaggio grazie al sistema nervoso centrale attivato e maggiormente efficiente. In uno studio del 2019 di Welk et al, atleti allenati sono riusciti ad aumentare la forza massima al back squat, trap bar, la forza esplosiva, il saldo verticale con e senza ciclo di accorciamento e allungamento nel corso di sole 6 settimane grazie a questo metodo. Non male, se consideriamo che gli atleti erano soggetti già allenati, lo stesso studio conclude che tale metodo è particolarmente utile in pre-season, quando un atleta comincia ad avere meno tempo da dedicare alla palestra ed ai pesi, ed aumentano gli allenamenti sul campo, tecnica e tattica. Sono sempre dell'idea che seguire metodi prescritti alla lettera su qualsiasi atleta sia un errore e che ogni metodo vada poi personalizzato in base al singolo atleta e dai suoi punti deboli. Detto questo, sicuramente il French Contrast Method è uno dei migliori metodi per aumentare la performance in una moltitudine di atleti di qualsiasi sport. In base alla selezione di esercizi e dei carichi, si può sfruttare tale metodo per indirizzare gli adattamenti verso il salto verticale, più specifico per basket e pallavolo, o verso l'accelerazione ed il cambio di direzione, opzione magari più indicata per sport come calcio o tennis. Se vuoi migliorare la tua performance atletica e diventare più forte ed esplosivo, ti consiglio di scoprire tutte le mie schede di allenamento su nicolasrubini.it e nel frattempo, come sempre, allenatevi! Grazie a tutti!